Abbiamo allestito una sorta di società di servizi a disposizione dell'attività di prostituzione svolta da donne transessuali di nazionalità italiana ed estera. Nei guai sono finite sette persone, quasi tutte di solo fra e serino, ritenute dalla Procura della Repubblica di Avellino, gravamente indiziati dei reati di associazione per delinquere e favoreggiamento della prostituzione. Gli agenti della squadra mobile questa mattina hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP presso il Tribunale di Avellino. Tre le persone finite agli arresti domiciliari, altre quattro sottoposte alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Gli indagati, secondo le indagini condotte dalla squadra mobile, si occupavano di procurare gli alloggi, di provvedere alle pulizie nelle abitazioni e all'accompagnamento delle prostitute nei vari spostamenti, gestendo l'attività illecita e un giro di affari stimato in circa 10.000 euro mensili e stesso tra le province di Avellino e Salerno, soprattutto nei comuni di Solofrano, Cera, Mercato San Severino e Capaccio.